buongiorno in questo video ci occupiamo di dare un'occhiata a livello introduttivo come prima lezione come parte della prima lezione di informatica dicevo dare un'occhiata a quello che è il linguaggio python e soprattutto quello che è il suo ecosistema quali sono le sue caratteristiche principali che ci aiuteranno a capire perché lo abbiamo scelto come linguaggio diciamo così introduttivo come nel primo corso di ingegneria e un po che cosa aspettarci da questo corso ma poi soprattutto da quello che verrà nei corsi successivi dell'utilizzo che che ne potete fare nei corsi successivi quindi diamo uno sguardo a python e al suo ecosistema nella prossima mezz'oretta di chiacchierate insieme python è un linguaggio open source gratuito nel senso che è possibile utilizzarlo scegliere e utilizzarlo senza dover pagare alcuna licenza senza dover diciamo così acquistare alcun software e è stato diciamo così inventato negli anni 90 da Guido Van Rossum un olandese che al quale non piacevano le caratteristiche dei linguaggi di programmazione esistenti e così tanto per per Roby decide di inventarne uno che avesse certe caratteristiche che lo rendessero diciamo così friendly amichevole per quanto riguarda i nuovi programmatori fornendo una sintassi quindi una modalità di scrittura relativamente semplice fornendo soprattutto una grande coerenza concettuale di impostazione quindi una regola vale in un punto e continua la stessa regola a valere nelle altre parti del linguaggio che rende più facile l'apprendimento e con un approccio che Van Rossum stesso chiamava approccio con un linguaggio a batterie incluse cosa intendeva? Intendeva dire che all'interno cioè del programma Python che voi scaricherete sono già comprese tutta una serie di funzionalità tutta una serie di librerie che negli altri linguaggi invece vengono a parte quindi devi poi scaricarti i programmi aggiuntivi scaricarti i libri aggiuntivi e configurarlo installare rendendo tutto molto più complesso in Python ti installi un programma e hai già una grande serie di funzionalità comprese nella scatola batteria incluse un po' l'idea è quella che quando vai a comprare un giocattolo se non ci sono le batterie te lo porti a casa ma non ci puoi giocare da subito dove andare anche a comprare batterie eccetera eccetera questo linguaggio o l'interprete di questo linguaggio è disponibile per tutti i sistemi operativi esistenti compresi chiaramente quelli principali per computer fissi e portatili ma anche per dispositivi mobili e dispositivi embedded ha preso piede in modo grandissimo e quindi è disponibile una grandissima quantità di documentazione e che rende anche facile apprendere linguaggio perché ci sono tutorial ci sono guide ci sono esempi ci sono codici già sviluppati da cui potessi ispirare liberie eccetera eccetera quindi è un ecosistema abbastanza ampio e questo grafico nel video non si legge benissimo chiaramente ma nel slide pdf ce l'avrete lo potete ingrandire su una serie di varie statistiche il linguaggio Python ovviamente è uno dei di quelli che si posiziona nelle prime posizioni tra in termini di quantità di programmatori che lo utilizzano programmi che sono sviluppati o anche interesse della comunità qui ci sono alcuni link per chi diciamo così si appassiona di statistiche in cui si possono andare a vedere i vari linguaggi e anche il loro andamento nel tempo quindi quando come i vari linguaggi la popolarità la frequenza dei vari linguaggi si è succeduta negli anni ad esempio nel caso di questo grafico di destra la linea di Python è quella in colore viola più scuro in testa abbiamo javascript che diciamo così viene usato per tutte le applicazioni web questo fa a che vedere con i progetti open source salvati sulla piattaforma github quest'altra statistica invece parla di un indice legato alle offerte di lavoro in un certo senso anche qua vediamo che Python, C, Java, C++ e javascript sono i linguaggi che vanno per la maggiore in qualunque tipo di statistica poi chiaro che a seconda della sfumatura di una determinata statistica ci sono alcuni davanti altri dietro ma sono quelli che costituiscono il corpo principale dei linguaggi di programmazione utilizzati. Python è un linguaggio interpretato si dice in gergo cioè c'è un programma che si chiama Interprete Python che legge il codice che scriviamo e lo esegue ed esegue le istruzioni che sono contenute nei codici che noi scriviamo Interprete Python è disponibile gratuitamente come dicevamo per tutte le piattaforme sul sito python.org se andate su download è possibile scaricarlo ma c'è anche poi negli store di Windows del Mac eccetera disponibile per potersi installato anche direttamente dall'installatore del sistema operativo quindi semplicemente con questo download, con questo caricamento è possibile scaricare l'Interprete Python e quindi permettere al nostro computer di eseguire dei programmi scritti in Python. Il concetto di batterie incluse è stato il fatto che l'Interprete Python stesso è circondato da una serie di librerie di base che è molto molto estesa. Rispetto ad altri linguaggi che tipicamente arrivano con un insieme minimo di librerie di base nel caso di Python ci sono veramente molte librerie che sono già incluse nello stesso download quindi non è necessario scaricare nulla in più, non è necessario configurare nulla in più. Queste librerie sono, io qui ho provato semplicemente a delencare, sono 200 moduli come si chiamano nel linguaggio Python ciascun modulo in realtà è una raccolta di funzioni, di oggetti, di metodi quindi all'interno di ciascuna di queste caselle, quelle che ho, diciamo, indicate in grassetto sono quelle che possono essere magari più interessanti per un primo studio, per un primo approfondimento del linguaggio le altre sono magari meno interessanti, più di nicchia, meno utilizzate ma immaginate che dietro a ciascuno di queste caselle magari ci sono 1, 2, 20, 50 funzioni diverse che poi possono essere utilizzate, no? Ad esempio, vedo qua l'occhio mi casca sul modulo CSV che è quello che useremo anche verso la fine del corso per leggere e scrivere file in formato tabellare quindi elaborare attraverso Python dei file in formato, diciamo così, simile ad Excel e lì dentro ci sono le funzioni per poterlo fare, ad esempio MAT è il modulo in cui ci sono tutte le funzioni matematiche quindi se vogliamo vederlo a un punto di vista un pochino più alto ci sono tutte le strutture dati, tutte le librerie che ci permettono di gestire strutture dati fondamentali gestire, diciamo così, gli oggetti principali di maggior utilizzo questo quindi dà al linguaggio la possibilità di scrivere programmi anche complessi e anche articolati grazie alla vastità delle sue librerie e per scrivere il programma ci serve un ambiente di sviluppo cioè un secondo programma che ci permette di scrivere il codice del programma stesso quindi l'interprete Python lo fa eseguire, lo fa partire ma per scriverlo ho bisogno di una finestra di testo molto banalmente in cui scrivere il programma e poi che mi aiuti in qualche modo a farlo partire e questo si parla di ambienti di sviluppo cioè un ambiente, un programma che mi permette, mi aiuta a scrivere il mio programma in Python e poi quando sarà finito schiacciare un bottoncino e il programma viene dato in pasto l'interprete Python che lo esegue, lo fa partire e esegue le istruzioni che ho scritto io ci sono anche qua moltissimi programmi possibili, disponibili dal più semplice, dal più didattico, al più sofisticato, al più professionale a quello che funziona su PC, a quello che funziona online anche lì, qui c'è l'imbarazzo della scelta tutti questi ambienti ovviamente ti permettono di scrivere programmi dello stesso tipo programmi scritti comunque in Python, quindi da un certo punto di vista sono equivalenti tra di loro posso sceglierli, se io uso un editor che si chiama PyCharm e il mio amico usa quello che si chiama Visual Studio Code alla fine il programma che scriviamo è lo stesso, funziona nel stesso modo semplicemente abbiamo due ambienti diversi in cui scriverlo quindi l'interoperabilità è molto forte ci si può cambiare facilmente i programmi indipendentemente dal programma che uso per scriverlo addirittura posso anche non usare nessun programma specifico perché ci sono alcuni editor come replit.com che sono i siti web in cui posso entrare e scrivere il mio programma senza installare nulla sul mio PC è molto comodo per fare degli esempi al volo oppure provare un programma su un computer che non è il tuo e quindi non ha tutto installato quindi in questa, diciamo così, cornice ho provato a riportare le icone dei principali ambienti di sviluppo ce ne sono alcuni tradizionali, quello che useremo nel corso si chiama Visual Studio Code che è un programma, diciamo così, da una grafica abbastanza semplice, lineare ma con molte funzioni qui vediamo un'area in cui scrivo il programma, il sorgente del programma un'area in cui il programma è in esecuzione quindi mi stampere risultati ho una parte di debugger e quindi mi può permettere di andare a verificare il programma passo passo cosa sta facendo per magari capire la causa degli errori vedete che qua è stato evidenziato un errore di esecuzione per cui in questo caso l'errore era il file che volevo aprire non è stato trovato e quindi dovrò capire perché attraverso il debugger perché questo file non è stato trovato se il nome era sbagliato, se la cartella era sbagliata insomma, molte cose e questo è un singolo file in Python un programma magari può essere più complesso è fatto di molti file che vengono a costituire un progetto complesso questo è il nostro ambiente in cui diciamo così, tra 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 scrivo il programma qui clicco su questa frecciolina che vuol dire run, avvia e il programma parte se è tutto a posto se non è tutto a posto dovrò andare come non è mai tutto a posto la prima volta, ve lo assicuro ma neanche la centesima volta dovrò andare poi a capire, correggere e l'ambiente mi aiuta a poterlo fare questo è un altro programma PyCharm che utilizzavamo fino all'anno scorso e poi se volete per scopo personale potete anche utilizzarlo anche se nel corso abbiamo scelto di usare Visual Studio Code perché ci dà delle facilità in più per l'esame però PyCharm è un altro programma di questo genere come vedete a prima vista si somigliano molto alla fine le funzionalità che ti danno sono le stesse scrivere codice, eseguirlo, debaggarlo e gestire progetti queste sono le caratteristiche principali poi nei dettagli chiaramente cambiano e poi come vi dicevo ci sono anche degli ambienti di sviluppo online noi dovremmo per fare gli esempi spesso e volentieri nel corso questo che si chiama replit.com non è l'unico ma uno dei tanti ce ne sono alcuni, non tantissimi a siti in cui puoi andare e scrivere il tuo programma anche qua c'è una finestra in cui scrivo il programma qui mi collego direttamente col mio browser che sia Chrome, Safari, Firefox mi collego a questo indirizzo e comincio a scrivere il programma e poi anche qua avrò il bottoncino di run che in questo caso è questo qua verde messo qui che fa partire il programma e nella parte destra vedrò l'output del programma il risultato del mio programma scritto anche qua ho un gestore di progetti ho un debugger che mi permette di verificare gli errori e correggerli quindi abbiamo la scelta di vari ambienti di sviluppo ci sono poi alcuni ambienti di sviluppo che sono un pochino più mirati a certi tipi di elaborazione gli ambienti di sviluppo che ho visto sono generici mi permette di sviluppare qualunque tipo di programma Python questi indicati qua invece sono principalmente per il calcolo scientifico o statistico scientifico quindi sono anche qua una zona in cui posso scrivere dei programmi Python questi programmi li scrivo tendenzialmente a blocchi e questi blocchi li posso eseguire separatamente indipendentemente l'uno dall'altro e vedere immediatamente quello che è il risultato anche in forma grafica quindi integrano il calcolo, l'esecuzione l'output grafico, l'interattività eccetera eccetera quindi immaginate una sorta di calcolatrice scientifica che faccia anche i grafici che faccia alla massima potenza in cui posso fare i vari passaggi vedo se non vanno di modifico torno indietro oppure vado avanti e quindi ho alla fine quello che ho una sorta di, non lo chiamo di notebook una sorta, immaginate chi di voi ha fatto nella scuola superiore esperienze di laboratorio magari sei il laboratorio di fisica o di chimica lo sperimento lo descrivi in un quaderno in cui raccolti le varie fasi i calcoli che fai, i risultati parziali e poi sulla base dei risultati parziali fai un grafico fai dei calcoli ulteriori eccetera eccetera e quindi questi strumenti mi permettono anche proprio di mescolare quelli che sono dei testi descrittivi delle illustrazioni dei calcoli e i risultati dei calcoli sia in forma numerica sia in forma grafica il linguaggio è sempre Python viene usato in un modo diverso inframmezzando essenzialmente input, output e documentazione è molto potente, molto utilizzato anche e soprattutto al di fuori dell'ambito prettamente informatico cioè quando devo fare un calcolo scientifico una simulazione una relazione di laboratorio di fisica come quelle che vi dovrà capitare di fare nel prossimo semestre si può pensare di fare in questo modo così integro tutto in un unico documento in un unico ambiente in cui se devo modificare un dato rifare tutti i calcoli mi basta cliccare una volta sola e non devo fare nulla a mano quindi sono molto utili da questo punto di vista proprio per l'interattività che ha sia la scrittura che l'esecuzione del programma e sono normalmente ambienti anche qua con le batterie comprese nel senso che questi ambienti pensati per il calcolo scientifico hanno già in automatico non solamente le librerie base di python che già sono più di 200 moduli ma ci sono altri moduli appositi proprio per dedicati alla parte matematica e poi non è finito qui ad esempio la parte di calcolo scientifico di solito c'è una distribuzione che si chiama anaconda che comprende tutti quei notebook che vi ho fatto vedere un attimo fa ma poi ci sono moltissimi altri domini applicativi cioè io faccio programmazione per sviluppare dei siti web oppure allora mi servivano delle librerie con delle funzioni specifiche per sviluppare il siti web scrivo programmi python per fare analisi dati e machine learning e allora avrò delle librerie che mi aiutano a fare diciamo le tipi di calcoli che servono per fare machine learning voglio fare grafici visualizzazioni visualizzazioni interattive avrò tutta una serie di librerie e ambienti che mi permettono di fare questo cioè veramente c'è una qualunque diciamo così campo della scienza della tecnologia e andrete a cercare vedrete che ci sono una serie di librerie disponibili che vi permettono diciamo così di aiutarvi già perché vi sono già pronte tutta una serie di funzionalità per lavorare nel vostro ambito questo è ciò che ha reso anche molto appetibile il linguaggio anche ai non informatici cioè a chi non fa solamente informatica e programmazione ma anche a fisici matematici statistici e poi anche ingegneri di altri tipi ingegnere che può essere meccanico civile eccetera che ha bisogno di un ambiente in cui fare dei calcoli e avere delle librerie in cui se faccio fluidodinamica ci sono già librerie per fare i calcoli di tipo fluidodinamico o se faccio bioingegneria ci sono già delle librerie per fare i calcoli con tutta la parte di genomica e così via non riesco a fare esempi compiuti perché non conosco tutte le branche della scienza ma sono abbastanza sicuro che per qualunque branche della scienza tenete presente che sono stimati circa 300.000 progetti a cui possiamo afferire facilmente scaricandosi dei moduli da internet ecco questi moduli qua di cui sto parlando sono specifici per alcuni domini scientifici non sono compresi nel download iniziale di python altrimenti sarebbe una cosa enorme ma sono facilmente accessibili usando una libreria cosiddetto python package index da cui semplicemente dando il nome del modulo e un comandino brevissimo è possibile scaricare questi moduli aggiuntivi poi nel corso vedremo come farlo chiaramente e quindi qua ci sono semplicemente alcuni esempi di moduli questi sono usati ovunque per il calcolo scientifico e statistico sto pensando a quello che farete nel secondo periodo didattico il corso di algebra e scusate di calcolo numerico e geometria questo pacchetto qua ha già tutta l'operazione di algebra lineare sulle matrici che imparerete quindi potrete anche testare gli esercizi che fate a mano facendo i programmini ma per quanto riguarda il corso di analisi 1 magari vi faccio poi qualche esempio più pratico più avanti c'è questa libreria simpai che è in grado di fare in modo simbolico quindi lavorare con le espressioni facendo limiti derivati integrali simbolicamente non numericamente quindi è utilissimo non chiaramente per valare l'esame perché i colleghi matematici sono molto attenti non vi lasciano ma sicuramente per poter verificare i propri esercizi durante lo studio quindi a me piacerebbe che cominciaste a vedere l'informatica come uno strumento di servizio anche alle altre discipline alle altre materie che state usando o gli altri lavori che andrete a fare simpai sicuramente meriterà un approfondimento in uno dei nostri approfondimenti settimanali questi sono alcuni esempi di ciò che si può ottenere con una delle varie librerie di visualizzazione ma solo per farvi alcuni flash essenzialmente di quello che si può ottenere con 10 righe di python ovviamente andandosi a studiare un pochino meglio la libreria oltre a conoscere la base del linguaggio questo ad esempio è un programmino completo non è un pezzo di programma un programma intero che usa alcune di queste librerie usa librerie di grafica seaborn usa una libreria statistica si chiama pandas le mette insieme e si scarica dei dati da internet e ne fa il grafico anzi fa una serie di grafici diversi con gli stessi dati e questo è stato sviluppato come notebook computazionale per cui se seguite questo link addirittura potete provarlo e vederlo e vederne la versione aggiornata quindi si possono ottenere risultati di questo genere veramente con 10 righe di codice avendo un minimo di conoscenza di quelle che sono queste librerie quindi questo è diciamo così il motivo della potenza di python chiaro che sono 10 righe di codice ma devi saperle scrivere devi conoscere il linguaggio capire come funziona e sapere quali sono le funzioni di cui hai bisogno di tutto questo grande ecosistema chiaramente noi non possiamo immaginare di fare tutto nelle prossime 80 ore quindi io qua ho provato a evidenziare diciamo così in giallo con questa figura a mo' di topolino quella che è la parte dell'ecosistema python che andremo ad approfondire a toccare non necessariamente approfondire il primo anno nel senso che noi utilizzeremo come ambienti di sviluppo utilizzeremo visual studio code oppure replit.com per fare diciamo così programmi online e ci limiteremo nello sviluppo di programmi a utilizzare solamente i moduli che sono già compresi nella libreria standard quindi daremo le basi di quello che si può fare e poi ciascuno diciamo così nei corsi successivi nelle materie successive nella propria specializzazione avrà le basi per poter poi andare a spaziare su quelle che sono le varie librerie scientifiche disciplinari verticali che non riusciamo chiaramente a toccare né a selezionare nel primo anno anche perché in realtà poi vi servono per usare una libreria statistica come pandas vi serve capire un po' di statistica statistica studiata secondo anno per usare le librerie di controllo o di modellazione meccanica vi servono i corsi di meccanica delle macchine che farete nel secondo anno e così via quindi non abbiamo neanche ancora le basi per poterle usare molte di queste librerie e quindi non riusciamo diciamo così a farvele toccare ma speriamo in questo corso già di darvi le basi in modo che lo possiate con la vostra curiosità e in funzione delle vostre esigenze andare a espandere dal centro di questa serie di cerchi concentrici da cui partiremo nel primo corso di informatica espandervi nella direzione che vi interessa di più sempre ricordando che è l'informatica è uno strumento che vi può sempre accompagnare così come la carta e la penna non lascerete mai andare e la programmazione spero che possa anche essere lo strumento per aiutarvi a studiare le altre materie per aiutarvi a studiare per aiutarvi a studiare per aiutarvi a studiare per aiutarvi a studiare per aiutarvi a studiare